Sul futuro dell'aeroporto di Forlì pesano ancora numerosi dubbi. Qui con noi l'ex presidente della SEAF, Società di Gestione dell'Aeroporto Ridolfi. Professore, qual è la sua verità in particolare su due temi attuali fondamentali, privatizzazione e nuova holding? Ma la gestione non c'è stata assolutamente. Tutti i bilanci sono trasparenti e tutte le decisioni strategiche e non strategiche sono passate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci. La privatizzazione noi l'avevamo portata avanti. C'era stata anche una grossa società aeroportuale, la SAVE, che gestisce gli aeroporti di Venezia, Treviso e anche molti altri aeroporti in fase di acquisizione del bacino dell'Adriatico, che aveva presentato la sua lettera di interesse sul nostro aeroporto. Poi è venuta fuori la storia della holding che, a mio avviso, ha interferito profondamente nel proseguo della privatizzazione. Quindi la privatizzazione per il momento è stata stoppata. La holding, io mi chiedo, non ne sono informato bene, verrà discusso in Consiglio Comunale nei prossimi giorni, ma so per certo che alle spalle di questa holding non c'è un piano industriale. Quindi senza un piano industriale è assai difficile capire quali saranno le risorse economiche che devono essere investite in questa holding. Quanto pesa, quanto è pesata una mancata connessione tra i vari scali della nostra regione, della Romagna? Ma questo è un vecchio discorso che già nel 1995 era nell'aria, ma che purtroppo non si è mai potuto realizzare. C'era uno studio della KPMG che assegnava già i ruoli ai diversi aeroporti, Bologna il business, Forlì lo costa e Rimini la charteristica. Però questa messa in rete degli aeroporti non ha più avuto seguito e non si è mai riusciti a metterli in rete, così come è stato fatto in altre regioni.